in contropiede, sprecata da Edera, è appena entrato, a memoria quasi, Calaioma, il giocatore del Parma, era scivolato, allora l'Alessandria può riprovarci ancora sulla sinistra, ancora con Iucolano, inseguito da Giorgino, il pallone all'interno, deve tornare con un retro passaggio Barlocco, Crosa in mezzo tra i giocatori della Parma Barlocco, Crosa in mezzo tra i giocatori della Parma Alessandria, io ho una momenta fila con il giro. E privati Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.